Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, questo è soprattutto Gianluferre e oggi siamo qui con un episodio un po' particolare di FIFA 2017. Infatti mentre stavo parlando ieri con un mio amico ci siamo domandati ma cosa succede se controllando una squadra di serie B nella modalità allenatore, cioè nella modalità carriera, si viene retrocessi in serie C perché visto che la serie C non esiste su FIFA cosa succede? Quindi ora andiamo subito a sfatare questo mito, iniziamo una nuova carriera così a casaccio e prendiamo una squadra di serie B, per esempio una anzi abbastanza scarsa, per esempio il Cittadella che per tutto rispetto al Cittadella ma penso sia forse la squadra più scarsa che c'è in questo momento in serie B venendo dalla serie C appunto dalla Lega Pro. Quindi prendiamo il Cittadella, questo facciamo tutto così non ci importa tanto, giochiamo da tale leggenda così è anche più difficile penso, facciamo il download di tutti gli ultimi aggiornamenti certo naturalmente, quindi ora noi andremo, vedete le cose che sono state scaricate ok, andremo a provare a simulare tutte le partite fino a un mese prima della chiusura del campionato. In modo tale che da lì possiamo vedere come siamo messi in classifica e cercare appunto di perdere le più partite possibili, naturalmente per esempio usciremo dalla partita e quindi perderemo a tavolino 3 a 0, tutte queste cose. Quindi ora caricamente ci vediamo appena finito. Eccoci qui siamo arrivati, abbiamo già 80, siamo con Rado G, ma noi andiamo direttamente a stagione, calendario, arriviamo fino a, facciamo maggio. Intanto guardate qui tutte le partite quante sono della serie B. No, facciamo, allora fino qui ad aprile, fino al primo aprile. Sì, andiamo, vediamo. Ora penso la simulazione ci metterà veramente tanto, quindi riprenderemo appena finisce la simulazione di tutte queste giornate, quindi ci vedrà veramente molto. Ok ragazzi, sta finendo la simulazione, mentre finisce io vi volevo dire che ho simulato fino a venerdì 19, quindi la partita prima dell'Elas Llorona che è l'ultima attiva di campionato. Ho fermato prima di maggio il campionato e ho visto che siamo ultimi. Ho fatto un calcolo e ho notato che non possiamo, almeno credo, non possiamo più salvarci perché siamo, penso, sì potevamo salvarci e le vincevamo tipo tutte, ma non penso che simulando ce le faceva vincere tutte. Ho paura, l'unica cosa che il finale di questo episodio sia che Cesar e Sonerano prima che possiamo finire, ora io ho paura anche ad uscire dal menu in effetti in questo momento, perché l'Esonero penso si avvicina, abbiamo 41 di valutazione, siamo ultimi, quindi anche se vinciamo siamo comunque fuori dalla serie B. Andiamo sul calendario e simuliamo fino al primo giugno. Ho guadagnato anche un trofeo ragazzi, mentre simulavo ho guadagnato un trofeo così a caso, soldi, 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 non so cosa voglia dire, poi me lo andrò a cercare perché sono curioso perché simulando tutte le partite e stanno che ti danno obiettivo. Comunque mancando partita ho simulato fino al 30, si è fermato in modo strano, quindi forse è successo qualcosa. Ok, ha finito, possiamo terminare la stagione, ultimi in classifica dopo 42 partite, analisi delle fine stagioni e avanziamo. Vediamo cosa succederà, vediamo se siamo stati in serie C e quindi sarebbe una lega inesistente sul gioco, oppure se come probabilmente succederà resteremo in serie B. Ok ragazzi, ha finito il caricamento, ora andremo a scoprire, guardando i tabelloni, cosa è successo al cittadella retrocesso in serie C. Ok, è uscito da solo, va bene, andiamo allora a vedere, forse dall'ufficio riusciamo a vederlo? Intanto guardate, siamo in pericolo da tipo sempre. Non so come vedere le statistiche di campionato, visto che si è bugato tutto. Ah, c'ho un'idea, andiamo a vedere la stagione, calendario, vediamo. No, siamo sempre in serie B ragazzi. Quindi la cosa succede che se vieni retrocesso dalla serie B, possiamo dirlo, che se si viene retrocesso dalla serie B, si ritorna in serie B. Quindi la serie C non esiste su questo gioco, ma questo penso si sapeva. Era un video, spero vi sia piaciuto, era un video particolare per sfatare un pochino questo mito, questo dubbio, che comunque c'era penso, anche in qualcun di voi che ci aveva pensato. La serie C non esiste, si ritorna comunque in serie B. Quindi qui da già lo fare tutto, da Corrado Gilli, allenatore del Cittadella, che è stato retrocesso dalla serie B in serie B, è tutto. Noi ci si becca con un prossimo video. Noi ci si becca con un prossimo video.